buongiorno a tutti parlo io perché l'ultima volta abbiamo parlato di lei è musicista quindi inizio io allora questo è il video di ringraziamenti per tutti coloro che hanno sostenuto il progetto del grande male e che scopriremo adesso diremo i nomi finalmente diciamo tutti i nomi tutti e questa è la prima ricompensa è già e le altre sono in arrivo è un enorme video di grazie si anna gasparotto daniele e salvatore lemmo sarà granero marco papa monica terlizzi giovanni castaldi camilla lamorte marta minoli sandra taricco pietro corletto mario nuzzo angela romei camilla lucarelli laura bressan rossella guidotti marisa lanzi felice fratello daniele battaglia fabio poletto elisa milani ettore brocca alessandro re viviana pinnisi tiziana repossi federica svampa eliana rotella claudio tettamanti alessandra giglio margherita lisciandrano stefano e chiara iregna sarà viganò chiara monteleone roberta de santis fabrizio emiliano silvano sergio e massimiliano d'auria lino giovanna michelino ornella e giulia colantuono maria gerarda svampa erica coco roberto allori massimo de stefano katia trombetta marta zibani giuliana damiani giorgio pilenghi ceila biasini claudia lombardi letizia barbarini stefano carrieri cecilia cagnola elisabetta boccia aristide del grosso margherita mauro cinzia sei mandi basta finito io ho finito e allora per ultimo renato del grosso e iti advice e con questo proprio diciamo grazie 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 e soprattutto ragazzi la musicista parla è incredibile vai vai